Buon viaggio, ben trovati ancora da muoversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio, sono due chilometri di coda in A11 dopo un incidente tra Lucca e Capannuri, la direzione è quella per Pisa, un veicolo segnalato in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, siamo in A1, la direzione è quella per Roma, sempre in A1, una perdita di carico tra Valdarno e Arezzo, direzione Roma. Ricordo che sulla A11 la Firenze Pisa Nord dalle 22 di martedì 4 all'una di mercoledì sarà chiuso l'allacciamento con la A1 Milano Napoli per chi da Pisa è diretto a Bologna. C'è sempre una riduzione di carreggiata sull'Aurelia, lavori tra Quercianella e Stagno in direzione di Genova, è tutto per il momento, muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, a dopo. Grazie a tutti.